Si torna anche sul primo fantacalcio, turno infrasettimanale molto importante, scontro diretto per le prime posizioni, quindi lui non ha ancora schierato la formazione ma manca ancora tantissimo tempo, quindi tocca a noi signori entrare in scena. Vediamo innanzitutto che ho in attacco e da lì scelgo. Diciamo che ho 4 attaccanti, ovvero Sisse, Dessers, Gitker e Verde che giocano partite abbastanza complicatine, quindi se ho un centrocampo valido no. Strefezzi in fuori, vabbè Soliano fuori, eh no. Stavo pensato a un 3-5-2 ragazzi ma mi sa che stavolta non ce la faccio. 4-4-2, vediamo un po' se ci ho giocato, è quasi 4-4-2 già è più fattibile. Andiamo di 4-4-2 ragazzi per modulo scandaloso, però purtroppo questi ho e questo facciamo. Partiamo però dalla porta e direi che senza dubbio e senza rimorso andiamo su Vicario visto che Canesecchi e Falcone hanno partite abbastanza così. In difesa Biraghi a Salerno, match comunque non facile, Kim contro l'Udinese, partita che il Napoli deve vincere per lo Scudetto, Parisi contro il Bologna e poi Andrei di Buongiorno. Buongiorno, per carità la Samp se vuole salvarsi, la Samp neanche se le vinci tutte si salva, quindi Torino che deve provare a portarsela via. Evito Ezibue anche perché il Napoli da quella parte credo abbia Kvara comunque sulle fasce, una squadra sempre temibile quindi non sarà facile per lui. A centro campo invece andiamo di Kostic, sperando che giochi, così come per Diaz, perché se non mi entrano, o meglio se non giocano, mi sa che sta giornata rischio di giocare con un uomo in meno, visto che non ho tanta scelta. Questi sono, Giasi lo mettiamo in panchina, l'unico che poi eventualmente dovesse buttare male o ha a disposizione. Gli altri purtroppo sono chi è infortunato, chi è squalificato, fuori, sono fuori. Davanti Dessers anche no, Abram, Nico, per forza ragazzi, perché Gittger non lo metto, Sisse men che meno, Verde men che meno, Dessers, magari a Milano col Milan il gol lo fa, ma non sono così disperato da mettere Dessers, con tutto il rispetto, però sicuramente farà doppietta Milano, ma poco ma sicuro, però va bene così signori, io, cioè a bocce ferme, che che metterebbe Dessers nel senso, poi magari fa gol, però io preferisco onestamente passare a questo 4-4-2 e basta. Di grandi dubbi onestamente non ne ho, perché, ripeto, questi ho a disposizione, quindi ci teniamo questa formazione. Vicario tra i pari, in difesa, Biraghi, Kim Parisi e buongiorno. A centrocampo, Kosti, Cediga, Zablasi, Cepereira, davanti Abram e Nico Gonzales. Se a questo punto mi fermo vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.